44 agenti delle forze speciali indiane sono morti in un attentato in Kashmir. Un'esplosione, forse causata dal kamikaze alla guida di un'autobomba, ha devastato un convoglio di mezzi che stava trasportando i poliziotti da Jammu a Shrinagar. L'attacco, il più grave nella regione da decenni, ha riacceso le tensioni tra India e Pakistan. Il convoglio è stato attaccato. Abbiamo subito perdite di uomini e di mezzi. Stiamo indagando sulla natura dell'esplosione per capire che cosa l'abbia provocata. Il gruppo islamista pakistano Jaish al-Mohamad, l'esercito di Mahometto, che vuole l'indipendenza del Kashmir, ha rivendicato l'attentato. Secondo Nuova Delhi, il kamikaze arrivava proprio dal Pakistan, ma il governo di Islamabad nega qualsiasi coinvolgimento. Il presidente indiano, Narendra Modi, ha definito l'attacco spregevole e ha minacciato pesanti conseguenze. L'attentato contraddice di fatto le autorità indiane, che negli ultimi mesi avevano più volte dichiarato che la situazione in Kashmir era tornata alla normalità.